ciao a tutti amici di mattoscacco.com ben ritrovati in questo nuovo video io sono quasi alla fine col trasloco mancano ancora un paio di giorni però la maggior parte delle cose sono state trasferite nella nuova casa tra cui ovviamente le attrezzature per fare questi video quindi d'ora in poi sarò assolutamente costante tutti i giorni e sempre circa le 8 di mattina troverete un nuovo video sempre qui su matoscacco ok oggi volevo mostrarvi questa apertura o trappola in apertura fantastica in cui il bianco riesce a demolire in soli sette mosse la difesa scandinava ovviamente come in tutte le trappole c'è bisogno della collaborazione da parte del nostro avversario andiamo a vedere quali sono le mosse e4 d5 difesa scandinava qual è l'idea del giocatore nero che gioca a questo tipo di risposta innanzitutto è quello di andare a giocare un pedone centrale che è immediatamente sorretto dalla propria donna quindi non è una mossa di questo tipo dove si lancia al centro un pedone che però non è difeso da nessuno ecco che poi spesso il nero gioca cavallo c6 per difendere il proprio pedone eccetera eccetera quindi la spinta d5 è assolutamente sensata cos'è che tra virgolette non funziona in questo tipo di mossa ed è il motivo per cui non si vede ad alti livelli oddio lo si vede giocare in blitz eccetera ma in partite standard è molto difficile trovarla perché dopo il cambio il nero o gioca una sorta di gambetto tipo cavallo f6 con l'idea di riprendersi col pedone prima o poi o la più giocata donna d5 questa donna qui al centro è molto forte poiché controlla una marea di case e quindi mi starei dicendo ma christian ma dov'è il problema il problema è che sì la donna al centro è molto forte ma il problema è che siamo in apertura e in apertura lo ripeto lo ripeterò all'infinito i pezzi pesanti che sono donna e le due torri devono stare calmi devono stare alle case di partenza motivo per cui mosse come attacco del barbiere dove la donna si mette in f3 in h5 per cercare di dare subito matto non vanno bene poiché muovono subito la donna e cosa c'è di sbagliato nel muovere subito la donna in apertura è che la donna essendo il pezzo più forte sulla scacchiera rischia di rimanere intrappolato in mezzo a tutto il traffico quindi prima c'è bisogno di un po' di cambi e semplificazioni e poi si muove la donna in assoluta tranquillità ora che c'è la donna al centro questo permette al bianco di guadagnare un tempo cosa significa guadagnare un tempo significa fare una mossa buona che comunque noi avremmo fatto per esempio tirare fuori un cavallo in questo tipo di struttura pedonale è una cosa buona quindi comunque noi questa mossa l'avremmo fatta ma ci fa guadagnare un tempo perché ora questa mossa di cavallo va a minacciare la donna avversaria quindi costringiamo al nostro avversario a non fare una mossa di sviluppo che gli piacerebbe tantissimo come cavallo f6 purtroppo deve ritardare questo cavallo f6 perché adesso c'è la donna sotto minaccia e ora la donna può andare in tre case principali a 5 di 6 di 8 la più forte a mio avviso è donna 5 una delle più giocate donna di 8 variante di ritirata questo è un altro problema perché permette al bianco di sviluppare un altro pezzo quindi abbiamo due pezzi sviluppati contro nessuno il vantaggio del bianco è decisivo lo dice anche il computer in questa analisi che dà più 1 al bianco però la partita non è certamente finita per il nero che sicuramente ha delle risorse cavallo f6 una mossa di sviluppo adesso il bianco senza giocare pedone d4 senza giocare nulla di troppo complesso cercando di lasciare la situazione più semplice possibile gioca alfiere c4 qual è l'idea di alfiere c4 è quello di sviluppare l'ultimo pezzo prima di arroccare poiché ti ricordo che in apertura devi togliere i pezzi dai loro casi di partenza e arroccare cioè mettere il re al sicuro il prima possibile ora ci sono diverse mosse buone per il nero c'è una mossa come e6 che è buona che ha lo scopo di cercare di annullare questa forte diagonale che controlla l'alfiere quindi giocando a 6 si annulla questa diagonale un'altra possibilità per il nero è quella di giocare c5 o un'altra è quella di giocare a6 se il nero decide di giocare in modo aggressivo cercando subito del controgioco può rischiare subito di perdere la partita ti faccio vedere una mossa che può essere interessante alfiere g4 perché non funziona alfiere g4 perché ora il bianco ha una risorsa tattica molto importante che è cavallo in e5 riesce a capire la forza di questa mossa innanzitutto si minaccia il matto d'alfiere su e7 il re non può scappare in d7 perché questa casa è controllata dal cavallo e allo stesso tempo c'è un attacco doppio su questo alfiere non c'è difesa questo ragazzi per esempio se ora il nero decide di catturare la donna semplicemente si prende il matto e abbiamo vinto abbiamo finito la nostra partita in eleganza se il nero vuole cercare di mantenere questo alfiere e far sì che questo alfiere difenda anche questo punto f7 per esempio alfiere h5 ora non mi puoi più dare matto perché altrimenti io ti catturo e la partita qui la perde il bianco ma qui dobbiamo giocare sempre di tattica ora siamo noi che sacrifichiamo la donna sul suo alfiere in modo tale che l'alfiere non è più a difesa di questo punto e adesso di nuovo scaccomato incredibile vero se invece l'alfiere anziché andare in h5 decide di andare in e6 che è probabilmente la difesa migliore anche se comunque è brutta permette al bianco di catturare e il nero si ritrova con questa struttura di pedonio ora non c'è minaccia di matto in poche mosse non c'è nulla di tutto questo ma il grave problema qual è che ora il bianco rocca e innanzitutto il bianco è al sicuro ha due pezzi sviluppati una torre che può prendere una colonna aperta dove c'è dietro il re una donna molto forte che ha attacchi interessanti un alfiere che presto prenderà una diagonale importante e dal lato del nero che cosa abbiamo abbiamo questi due pedoni centrali doppiati sulla settima e sesta traversa che sono veramente la spina nel fianco del nero perché perché questo alfiere non si può sviluppare finché questo pedone non viene spinto ma per spingere questo pedone c'è bisogno di spingere questo pedone ma questo pedone non può essere spinto perché c'è il cavallo quindi il nero cercherà di lasciare un pezzo bloccante in modo tale che questi due pedoni siano totalmente totalmente inutili non so se ora esempio il nero cercherà di giocare cavallo c6 o cavallo d7 mamma mia una mossa peggio dell'altra probabilmente il bianco cercherà di sostenere e di portare un pezzo in e5 in modo tale da far sì che il nero non riesca mai a liberarsi un modo per liberarsi magari giocare g6 con l'idea di svilupparsi cercare un arrocco comunque il punto 6 è comunque una grande debolezza e il bianco riuscirà assolutamente a sfruttarlo a seguito di questa situazione che per qualcuno potrà sembrare pari in realtà il computer analizza per 2,75 quindi è come se il bianco fosse quasi il vantaggio di un pezzo leggero ok quindi ricordati questo tipo di trappola la rivediamo un attimino velocemente vediamo quali sono le mosse che la scaturiscono cattura cattura cavallo c3 per scacciare la donna cavallo f3 sviluppando l'altro cavallo cavallo f6 alfiere c4 cercando subito questo tipo di manovra e su alfiere in g4 inchiodando il nostro cavallo perché dietro c'è la donna ti ricordo che questa non è un'inchiodatura assoluta ma si chiama inchiodatura relativa perché io volendo il cavallo comunque posso toglierlo sia inchiodato perché dietro c'è un pezzo più importante ma se io ho in mente un piano efficace posso comunque spostare questo cavallo dunque cavallo n5 ora si ho aperto la possibilità di prenderti la donna ma prendi il matto molto interessante sicuramente ti potrà capitare all'interno di qualche partita veloce giocata online bene ragazzi spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto come al solito ci vediamo domani con un altro nuovo video io vi invito a lasciare un like un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ci vediamo domani e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao ciao